Buon pomeriggio a tutti. Devo essere sintetico perché non abbiamo tantissimo tempo. Allora, il tema che voglio sottolineare innanzitutto è questo. Stiamo come Chiesa affrontando in modo nuovo un problema antico e molto grave, gravissimo, perché per quantità e per qualità questo reato, l'abuso dei minori, le molestie, gli abusi, eccetera, nei confronti dei minori, è un reato, un peccato, forse in qualche caso una patologia molto significativa, che lascia delle tracce indelebili nella mente, nel cuore, nell'anima delle persone, dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti. E questo reato, questo peccato, a volte si compie anche nei nostri ambienti. Noi abbiamo, nell'arco degli anni, reagito in modi diversi. Quello che è il vero cambiamento di questi anni è che ci mettiamo dalla parte delle vittime, dalla parte dei minori, non dalla parte degli abusatori, anche se gli abusatori sono dei chierici, dei sacerdoti o dei religiosi. E ci mettiamo dalla parte dei minori perché per un minore anche un solo abuso lascia un segno per tutta la vita. Magari in un primo tempo viene dimenticato, sepolto, poi col passare degli anni per una qualche situazione riemerge e la persona rivive tutta quella angoscia, quella vergogna, quella rabbia che ha vissuto in quei momenti. E poi se è stato abusato nel nostri ambienti, di solito, le persone che abusano dei minori, penso in maggioranza a degli preadolescenti e degli adolescenti, questa è la fascia più colpita dai nostri operatori, chierici e in qualche caso anche laici, tra i quali ci sono anche dei catechisti, delle guide scout, degli educatori, ci sono anche degli insegnanti, degli allenatori, dei bidelli, dei custodi delle palestre, delle piscine. Tutti questi fatti che avvengono anche una sola volta nella vita di una persona poi ritornano fuori e siccome l'operazione della violenza non avviene di solito con uno stupro violento, ma con una seduzione progressiva, un convincere il ragazzo o il ragazzino o la ragazzina il confondere le sue categorie di bene e di male, cosa è bene e cosa è male, cosa ti fa stare bene, cosa ti farà stare male, cosa ci darà soddisfazione, cosa non ci dà soddisfazione, per cui come ha detto bene il Papa c'è un abuso prima di tutto di potere perché chi compie questo è una figura di autorità, prete, religioso, insegnante o comunque una figura di autorità superiore per età e per forza, un abuso di potere che diventa abuso di coscienza perché si insinua nella mente, nel cuore del ragazzino o della ragazzina quello che è bene e male, come ho detto, viene confuso, si insinua che forse anche lui in realtà desidera, anche lei in realtà desidera quello che si sta facendo e si crea così una specie di senso di colpa e di complicità per cui poi non si denuncia, non si parla, si tiene tutto nascosto, diventa un segreto e quando riemerge, magari anche dopo molti anni, si rivive anche questo dubbio, forse io sono stato complice, forse è stata anche colpa mia. Quindi con una grave sofferenza è una ferita profonda, è un reato molto grave e anche per quantità, come ho detto, perché l'emersione di questi reati, di questi fatti è forse solo un terzo di quello, così dicono gli esperti, un terzo di quelli che avvengono in realtà. La grande maggioranza di questi reati avviene in famiglia, nell'ambito della casa, nell'ambito dei parenti, dei conoscenti. Una parte avviene anche attraverso altre persone, non proprio così vicine. Una parte minoritaria, molto minoritaria, avviene anche attraverso sconosciuti e poi, come ho detto, anche il mondo degli insegnanti, della scuola e di quello che ruota intorno. L'ambito sportivo è un altro ambito dove avvengono di questi abusi, di questi reati. E anche c'è una piccola percentuale del clero, purtroppo, che è un fatto doppiamente grave. Su questo, insisto, Papa Francesco e Papa Benedetto hanno detto cose molto importanti. Padre Lombardi ha raccolto in un piccolo volumetto, non fate male a uno solo di questi piccoli, un piccolo volumetto, quattro interventi, uno fatto da Benedetto XVI nell'estate, che è un intervento un po' complesso, scritto con diverse intenzioni, e Padre Lombardi lo rilegge e lo interpreta. La lettera di Benedetto XVI ai cattolici di Irlanda, che è il suo documento più forte e più sistematico su questo argomento. E poi i due interventi di Papa Francesco, il primo la lettera al popolo di Dio dell'agosto dell'anno scorso, e l'ultimo che è del febbraio di quest'anno, alla fine dell'incontro con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo e dei superiori maggiori degli istituti di vita consacrata, di diritto pontificio di tutto il mondo. E in questo secondo discorso, questo ultimo discorso di Papa Francesco, ci sono anche alcune pagine molto forti, dove Papa Francesco aiuta a fare anche una lettura di tipo teologico di questa realtà che avviene quando avviene all'interno della Chiesa e quando avviene per opera di religiosi o di chierici o di sacerdoti. Vedendo dietro a questa realtà la disumanità del fenomeno a livello mondiale diventa ancora più grave, più scandalosa nella Chiesa, perché in contrasto con la sua autorità morale e la sua credibilità etica, il consacrato scelto da Dio per guidare le anime alla salvezza si lascia soggiogare dalla propria fragilità umana o dalla propria malattia, diventando così uno strumento di Satana. Negli abusi noi vediamo la mano del male che non risparmia neanche l'innocenza dei bambini. Non ci sono spiegazioni sufficienti per questi abusi nei confronti dei bambini. Umilmente e coraggiosamente dobbiamo riconoscere che siamo davanti al mistero del male che si accanisce contro i più deboli. Perché? Perché sono immagine di Gesù. Ecco perché nella Chiesa attualmente è cresciuta la colpevolezza, la consapevolezza di dover non solo cercare di arginare gli abusi gravissimi, con misure disciplinari e processi civili e canonici, ma anche affrontare con decisione il fenomeno all'interno e all'esterno della Chiesa. Essa si sente chiamata a combattere questo male che tocca il centro della sua missione, annunciare il Vangelo ai piccoli e proteggerli dai lupi rapaci. Fratelli e sorelle, nella rabbia giustificata della gente, la Chiesa vede il riflesso dell'ira di Dio. Tradito e schiaffeggiato da questi disonesti consacrati. E continua su questo tono. È difficile dunque comprendere il fenomeno degli abusi sessuali sui minori senza la considerazione del potere, in quanto essi sono sempre la conseguenza dell'abuso di potere, lo sfruttamento di una posizione di inferiorità dell'indifeso abusato, che permette la manipolazione della sua coscienza e della sua fragilità psicologica e fisica. E poi cita altre forme di strumentalizzazione di abuso dei piccoli, come le guerre, i bambini soldato, i bimbi rapiti per il commercio degli organi, i profughi, eccetera. E tra le significazioni fratelli e sorelle, oggi siamo davanti a una manifestazione del male, sfacciata, aggressiva, distruttiva. Dietro e dentro a questo c'è lo spirito del male, il quale nel suo orgoglio, nella sua superbia, si sente padrone del mondo e pensa di aver vinto. E questo vorrei dirvelo con l'autorità di fratello e di padre, certo piccolo e peccatore, ma che è il pastore della Chiesa che presiede nella carità. In questi casi dolorosi vedo la mano del male che non risparmia l'innocenza dei piccoli. Mi porta a pensare sull'esempio di Erode, che spinto dalla paura di perdere il suo potere ordinò di massacrare tutti i bambini di Betlemme. Dietro a tutto questo c'è Satana. Vi consiglio di riprendere questo brevissimo libretto perché ci sono alcune riflessioni, argomentazioni che ci aiutano a capire tutta la gravità, che cosa c'è in gioco qua. Non stiamo parlando di cose di secondo ordine, ma siamo qui nel centro della vita della Chiesa. Il chierico, in modo particolare religioso, che cade in questo tipo di abusi, di maltrattamenti, di esercizio abusivo del potere, della corruzione della coscienza e dell'abuso sessuale, commette un doppio sacrilegio. Quello del piccolo che viene violentato, viene strumentalizzato, abusato, è quello della violazione del proprio stato di vita, di consacrato, di sacerdote, eccetera. È chiaro che la reazione della Chiesa deve essere forte e di tutti gli operatori pastorali deve essere forte e dobbiamo invertire un modo di fare, una mentalità. Queste linee guida che la CEI ha approvato nel giugno di quest'anno, che potete trovare sul sito della CEI, negli uffici della CEI, c'è anche un ufficio che si chiama Tutela dei Minori e lì trovate una serie di documenti, anche queste linee guida. Sono state pubblicate anche dal Regno documenti. Sono fatti in collaborazione con la Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori. I principi guida sono la prima parte. Ci è chiesto un rinnovamento ecclesiale. Ogni qualvolta uno dei più piccoli viene ferito, tutta la comunità ne soffre, perché non è riuscita a fermare l'aggressore. Il testo che vedete scorrere è lo stesso delle linee guida che si trova quindi anche nel sito della CEI. È richiesto un rinnovamento comunitario che sappia mettere al centro la cura e la protezione dei più piccoli e vulnerabili, come valori supremi da tutelare. cura e protezione sono parte integrante della missione della Chiesa nella costruzione del Regno di Dio. Cosa ci è chiesto? Ascoltare le vittime, farcene carico, favorire una cultura della prevenzione, e qui entrano in gioco tutte le nostre strutture educative. Formulare una cultura della prevenzione. La formazione, l'informazione di tutta la comunità ecclesiale. Abbiamo bisogno di insegnare ai ragazzini e alle ragazzine ad aprire gli occhi e a difendersi dai lupi. Abbiamo bisogno di informare e formare i genitori e le famiglie, gli educatori, i catechisti, i segnanti. La creazione di ambienti sicuri per i più piccoli. Qui ci sono una serie di prassi che noi dovremo adottare con il passare dei mesi. Su questo noi abbiamo già anche delle indicazioni prontes. Altre forse le dovrete formulare proprio per l'ambiente scuola, gli ambienti dove si opera la vostra attività. Ambienti sicuri per i più piccoli. L'attuazione di procedure e buone prassi. Non solo la prassi canonica che noi abbiamo già stabilito per le norme che esistono già e quelle nuove che sono uscite da pochissimo, per la procedura canonica quando si scopre un caso. E' già troppo tardi. Ma le procedure che si devono ottenere per evitare, per bloccare, per prevenire. La vigilanza. Tutti coloro che hanno qualche compito educativo di grande rilievo dirigenziale fino all'ultimo operatore di una scuola fino a chi si occupa delle pulizie, eccetera. Tutti hanno bisogno di imparare la vigilanza per evitare che avvenga anche uno solo di questi casi. E' quella limpidezza nell'agire che sola costruisce e rinnova la fiducia. Ci vuole limpidezza nell'agire, serietà, attenzione. Riguardo alle vittime, il nostro atteggiamento non sarà quello di mettere in dubbio quello che ci vengono a denunciare e di chiedere immediatamente, di metterle sotto interrogatorio e scoraggiarle, perché ci stanno procurando una grossa grana, ma la vittima va riconosciuta come persona gravemente ferita, ascoltata con empatia, rispettando la sua dignità. Questo è già un primo atto di prevenzione, perché solo l'ascolto vero del dolore delle persone che hanno sofferto questo crimine ci apre alla solidarietà e ci interpella a fare tutto il possibile, perché l'abuso non si ripeta. Per questo che il Papa ha voluto personalmente ascoltare in questi anni, in questi due, tre anni, quasi tutti i mesi almeno una vittima, per questo la Conferenza Episcopale Italiana ha voluto ascoltare delle vittime, abbiamo ascoltato dei preti che sono stati abusati quando erano ragazzi, giovani, nei seminari, abbiamo ascoltato dei giovani abusati da dei preti. Ecco, dopo aver fatto questa esperienza, qualcuno di voi forse l'avrà fatta, è chiaro che ti si apre un mondo che ti mette veramente nella prospettiva giusta per impegnarti contro questa, perché non avvengano questi fatti. Ascoltare e condividere. Poi abbiamo il problema di responsabilizzare le comunità e gli operatori. Non possiamo, come dire, delimitare il problema solo a qualcuno che in un momento di stranezza o perché ha una malattia o perché non si sa bene perché ha fatto un reato di questo genere e quindi una volta isolato abbiamo risolto il problema. Tutta la comunità deve farsi carico della protezione dei minori e delle persone vulnerabili. Come una missione comunitaria si deve creare un clima, un clima comunitario vigilante e sano pulito e serio allora si previene effettivamente è un clima educativo dirò più avanti nel confronto dei ragazzi abbiamo bisogno di un nuovo cammino di educazione sessuale. se non mettiamo a fuoco e se non ci impegniamo in un nuovo cammino di educazione sessuale in nuovi percorsi di educazione sessuale noi avremo perso una una o più generazioni a dieci anni e mezzo undici anni ci dicono i dati tutti i nostri ragazzi tutti hanno già visto della pornografia sui loro cellulari che hanno personalmente perché a quell'età tutti praticamente quasi tutti se non tutti hanno il cellulare tutti hanno già frequentato la pornografia e abbiamo visto due o tre casi recentissimamente un gruppo whatsapp costituito da dei ragazzi di prima seconda media da dieci undici dodici anni che si scambiavano materiale pedopornografico violenze incredibili bestemmie e altre e altre cose un gruppo che si è allargato allargato dal Piemonte alla Toscana eccetera eccetera ne hanno sono riusciti a fermarli perché una mamma per fortuna è intervenuta e ha avuto il coraggio di un altro gruppo è stato scoperto ancora più recentemente i ragazzi stanno nuotando anche in questa realtà così terribile si stanno formando sta crescendo la loro attenzione al mondo della sessualità e stanno nascendo le prime relazioni affettive e sono segnate da questo abbiamo bisogno urgentemente di una educazione sessuale esplicita che aiuti i ragazzi a capire i valori che ci sono in gioco e a usare in modo critico controllato e con un autocontrollo serio gli strumenti che oggi hanno in mano con i quali sono abilissimi sfugono al controllo dei genitori eccetera eccetera per far questo abbiamo bisogno di operatori pastorali e credo anche di insegnanti quindi che siccome sono a contatto con i minori bisogna che siano esperti anche di questa nuova realtà bisogna renderli esperti e corresponsabili c'è da fare un lavoro di informazione su questa realtà degli abusi di come avvengono qual è la personalità tipica dell'abusatore quali sono i suoi comportamenti quali sono i luoghi preferiti quali sono le vittime preferite in mezzo ai ragazzini alle ragazzine come si muovono bisogna queste cose bisogna che gli operatori i nostri operatori pastorali le sappiano per essere attenti loro e anche per affrontarli insieme con i piccoli che ci sono affidati abbiamo un compito speciale per la formazione dei candidati degli ordini sacri alla vita consacrata qui ci sono diverse persone che appartengono alla vita consacrata su questo ci sarà da fare una selezione diversa dei ragazzi che si presentano per la vita sacerdotale così come dei religiosi così come delle religiose vado oltre ma qui ci sono dei compiti specifici che noi dovremo adottare nei seminari nei noviziati in tutti gli istituti di vita consacrata grande attenzione alla formazione permanente così da essere perseveranti nelle proprie scelte rinnovandone nel tempo le motivazioni se è vero che l'età media del primo abuso dei chierici è 39 anni e mezzo vuol dire che ci sono dei chierici che hanno commesso il primo abuso che potevano avere anche 50 anni se è l'età media è 39 anni e mezzo quindi per molti anni hanno saputo controllarsi e reagire alle proprie magari desideri o tendenze ma a un certo punto sono crollati la fatica del ministero lo stress i fallimenti educativi i problemi concreti gestionali le responsabilità che si accumulano le stanchezze possono portare a cercare compensazioni dalle compensazioni più leggeri si passa alle compensazioni più gravi anche sessuali internet è a disposizione anche dei sacerdoti dei religiosi e delle religiose purtroppo si abusa anche lì e si può passare benissimo dall'uso della pornografia alla pedopornografia al dialogo alle linee di incontro eccetera eccetera e poi le occasioni capitano nel ministero nello stare in mezzo ai ragazzi nello stare con i ragazzi e con le ragazze e quindi la formazione permanente per sostenere tutti i nostri operatori pastorali anche col passare degli anni perché rimangono forti e chiare le motivazioni che hanno dato origine a una vocazione o comunque che sostengono un impegno educativo giustizia e verità non possiamo più occultare quello che è successo nessun silenzio occultamento può essere accettato il rigoroso rispetto della normativa canonica e di quella civile la redazione e l'applicazione di procedure e protocolli oltre che il supporto di specifiche competenze professionali e di servizi strutturati a livello diocesano o interdiocesano possono consentire agli ordinari di fare quanto a loro compete nella massima chiarezza e trasparenza va perseguita la tutela dei minori e delle persone vulnerabili vanno prese tutte le iniziative idonee per impedire la reiterazione dei reati e ci sono delle procedure da seguire per diritto canonico e altre che vengono invece portate avanti dalla società civile e dalle autorità civili e noi siamo chiamati ad aprirci sia a una cultura della prevenzione di ogni forma di abuso che si fa soprattutto con l'informazione e la formazione ma con i progetti formativi ma anche con la collaborazione con le autorità civili la conferenza episcopale italiana e questo è un salto di qualità notevolissimo si impegna moralmente quando un caso sia venuto fuori verificato sottoposto a indagine previa con il risultato che effettivamente si è trovato un reato i vescovi italiani si sono impegnati moralmente a fare un esposto alla magistratura anche se si tratta di sacerdoti o religiosi quindi la collaborazione è giustificata perché noi non abbiamo gli stessi strumenti di indagine che ha l'autorità civile per scoprire se quel reato c'è poi davvero oppure no e inoltre noi non 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 possiamo fare interventi se non quelli di tipo disciplinare interno alla vita della chiesa ma come facciamo a bloccare un abusatore che sta continuando ad abusare e noi ne abbiamo la quasi certezza dalle cose che ci dicono i ragazzi o i giovani come facciamo bloccarlo e bisogna bloccarlo naturalmente la prima collaborazione è quella con la società civile è quella di collaborare dal punto di vista preventivo ed educativo anche nei confronti di mass media che sono agguerritissimi contro di noi su questo tema perché effettivamente è uno dei temi con i quali si può demolire la credibilità della chiesa l'autorevolezza della chiesa e tutto il suo impegno educativo anche con i mezzi di comunicazione dobbiamo essere capaci di essere trasparenti di non nascondere ma nello stesso tempo di dire le cose che sappiamo correttamente senza dare spazio a dilazioni a supposizioni a costruzioni fantastiche se si dicono le cose precise che si sanno i fatti forse si impedisce a qualcuno di costruirci sopra fantasie eccetera strutture e servizi operativi la CEI allora ha deciso di darsi una struttura e dei servizi a livello nazionale esiste già un servizio nazionale per la tutela dei minori che è composto da una dozzina o poco più di persone che sono parte laici in parte religiosi in parte diocesani uomini donne che sono dei super esperti chiamiamoli così comunque degli esperti di questo campo cioè psicologi giuristi canonisti educatori e abbiamo stiamo costituendo in tutte le diocesi d'Italia una figura che è il referente diocesano il referente diocesano che deve occuparsi di questa realtà c'è anche una serie di indicazioni concrete per il suo ruolo deve aiutare il vescovo nell'affrontare valutare discernere seguire i casi che capitano ma anche soprattutto io penso per fare organizzare a livello diocesano la formazione l'educazione e la prevenzione effettivamente nei confronti della propria delle proprie realtà cioè nei confronti dei catechisti degli operatori pastorali di quelli che lavorano nelle scuole cattoliche di tutti coloro che sono a contatto in qualche modo con i ragazzi e con i bambini e con i genitori quindi l'ambito della pastorale giovanile in parte anche della pastorale familiare l'ambito della scuola l'ambito dello sport e del tempo libero il referente diocesano può farsi e viene viene anche gli viene indicato questo compito di farsi una piccola equip con dentro alcuni esperti delle più o meno delle categorie che ho detto anche prima esperti del punto di vista psicologico giuridico canonico educatori o esperti della comunicazione secondo me sarebbe opportuno che anche le scuole cattoliche diocesi per diocesi avessero un referente per la tutela dei minori se una scuola è molto grande potrebbe avere un referente della scuola stessa per la tutela dei minori se le scuole sono piccole non so se ci sono solo delle piccole scuole dell'infanzia eccetera allora forse si può fare un referente solo per la diocese che potrebbe far parte dell'equip del referente diocesano per il settore scuola pensateci ecco non è scritto da nessuna parte ma mi sembra che potrebbe essere uno sviluppo interessante i referenti diocesani poi fanno parte del consiglio regionale del del servizio regionale che ha un vescovo in ogni regione che è incaricato per questo e un coordinatore per ogni regione che è incaricato per questo e il livello regionale ci serve soprattutto per la formazione il confronto il dialogo ho visto che in diverse diocesi in diverse regioni d'Italia si costituiscono delle equip interdiocesane perché le diocesi sono molto piccole non hanno molte persone qualificate a disposizione per cui c'è un referente diocesano ma l'equip è invece a livello interdiocesano e la cosa va bene mi sembra anche opportuna perché ci si aiuta tra diocesi piccole quasi ovunque ci sono anche dei religiosi e delle religiose che partecipano a questa a questa realtà quindi mi sembra che in questo senso la collaborazione stia andando avanti e c'è quindi un livello diocesano che è quello operativo più diretto nel territorio un livello regionale che è quello di coordinamento e di formazione un livello nazionale che è quello che promuove e fa crescere sostiene la struttura la rete che si sta formando ripeto in tutte le nostre diocesi non vado avanti oltre le indicazioni operative sono la seconda parte delle linee guida contengono molte indicazioni dal punto di vista anche canonico perché è un percorso piuttosto complesso ma appunto a un certo a questo punto qui entra in campo la diocesi la curia l'ordinario diocesano o l'ordinario religioso se si tratta di un istituto religioso clericale che devono avere anche dei canonisti per portare avanti la procedura dal punto di vista canonico mentre sulla selezione e formazione degli operatori pastorali qui ci vuole un lavoro che dobbiamo costruire insieme per questo noi pubblicheremo come servizio nazionale tre o quattro documenti allegati alle linee guida che saranno approvati spero nel prossimo consiglio permanente della CEI in gennaio sulla figura del abusatore l'abuso cos'è l'abuso la figura dell'abusatore i luoghi i tempi i modi che ci fa da è una cosa molto sintetica che ci aiuta a capire cos'è questa cos'è questa realtà e ci permette anche di avere uno strumento per la formazione un secondo documento sarà più specifico un modulo preventivo formativo per i seminaristi e i religiosi e un terzo modulo sarà più sul tema della comunicazione e il rapporto con i mass media ma ce n'è uno che è il più sostanzioso che proprio abbiamo rifinito in questi giorni che è intitolato buone prassi di prevenzione e tutela dei minori in parrocchia qui dentro ci sono tutta una serie di indicazioni che tengono conto anche della legge della privacy e delle altre norme da osservare in una realtà parrocchiale che però ha anche l'oratorio il centro sportivo ha eventualmente una scuola materna ha diverse di queste indicazioni di comportamenti che si devono tenere e comportamenti che non si devono tenere sono pari pari secondo me adottabili anche in una realtà di una scuola con bambini ragazzi ecco di vari livelli naturalmente in questo documento che riguarda la parrocchia si tengono conto di tutte le attività della parrocchia con indicazioni molto concrete infine concludo gli strumenti tecnologici l'ho già detto questo oggi è uno dei territori di maggiore pesca da parte dei lupi che vanno a cercare i ragazzini o le ragazzine su internet e sono capaci di ingannarli di attirarli di convincerli i social penso soprattutto ai milioni di fotografie che circolano su instagram e simili dove i ragazzini imprudentemente inconscientemente mettono foto del tutto sconvenienti di se stessi e queste poi diventano oggetto di commerci e usi e abusi c'è da fare una educazione su questo molto urgente sull'uso dei social perché i ragazzini ripeto li usano è un mondo in continua evoluzione nascono dei nuovi modelli dei nuovi strumenti e dovremo un po' inseguire questa realtà per inserirci anche lì e insegnare i nostri ragazzi a non cadere in queste trappole pericolose grazie 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 grazie